Nei corsi di propedeutica e propedeutica al pianoforte anche i più piccoli possono imparare ad approcciarsi allo strumento, in questo caso appunto al pianoforte, o anche ad avere un percorso guidato non per forza al pianoforte. Nel corso di composizione invece potrete imparare a gestire le varie tecniche compositive, classiche e moderne, e anche a gestire le idee per diventare dei veri compositori. Per me insegnare significa tirare fuori il meglio da ogni allievo. A me piace costruire un percorso personalizzato per ogni singola persona. È molto importante che un allievo si senta proprio agio e che venga compreso dal maestro. Mi chiamo Davide, insegno chitarra classica e moderna. Io sono Ilaria Righi, insegno composizione e propedeutica musicale, propedeutica al pianoforte alla BT Music. Vi aspettiamo per una lezione di prova. Ciao! 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 Grazie per la visione